Una domanda, quanto importante è il tipo di vitamina che metti dentro a un integratore? Ripeto e ribadisco, la forma è importantissima. In natura, quando tu mangi un cibo che ha la vitamina E, tipo la carne o certi cibi vegetali che ha tanta vitamina E, tu non mangi solo alfatocoferolo, che è quella che ti vendono negli integratori, tutti ti danno l'alfatocoferolo, va bene. Però tu, ogni volta che la mangi dalla frutta o dalla carne, ti trovi otto molecole diverse nel cibo. Vorrei risparmiarvi i nomi, ma li ho anche già scritti. Questa biochimica non è l'opinione, secondo me è meglio prendere la vitamina C naturale perché fa meglio, perché è naturale. No, è diversa, a un primo sguardo sembra uguale, perché la formula chimica è uguale, ma ci sono tanti modi di creare la stessa molecola, alcuni vanno bene, alcuni non ti fanno niente, alcuni ti ammazzano. Ci starà un po' attento alla forma chimica, giusto? Questa qua. Quindi quando tu mangi vitamina E naturale dalla natura, tu prendi otto molecole diverse. Uno è il famoso alfatocoferolo, poi c'è il beta, il gamma, il delta e poi ci sono altre quattro sostanze che si chiamano tocotrienoli. Non chiedetemi la formula chimica, non la so, non me la ricordo. Quando il corpo ha tutte e otto, dice finalmente vitamina E al completo. Se ne ha una o due solamente, cosa farà? Cestina in parte e in parte va a cercare in giro per il suo corpo di prendere le robe che mancano per usare quello che gli arriva, per completarla. Però deve stare attento a non prendere troppo degli altri, se no crei una carenza. È assurdo che tu prendi una vitamina di un tipo e crei una carenza di un altro, è un po' stupido. Dagliele tutte, no? Perché non lo fanno tanti? Alcuni lo fanno, ma perché non tanti lo fanno? 400 sterline al chilogrammo, quella è buona. E la sterlina influenza troppo. Il DL alfatocoferolo credo che costi 3 euro al chilo, 1 euro al chilo, una roba così. Però ce ne vuole di più, perché se tu prendi, vedi che la sanno, un po' la sanno, però non vanno fino in fondo. Se tu prendi 400 milligrammi di E, quella vera, il Ministero della Salute ti permette di scrivere 400 milligrammi di E. Se tu prendi il DL alfatocoferolo e metti dentro 400 milligrammi, loro pretendono che tu dica che sono solo 200 o qualcosa del genere. Perché sanno che quella molecola lì contiene altre robe che sono inutili. Non sanno che un ottavo è dannoso però, cioè non lo dicono. E alcuni lo vietano per alimentazione umana, solo animale, guarda caso, in alcuni stati in Francia. Questo qua è il rimedio, ti obbligano a ridurre la sostanza, quindi ne hai messo dentro un chilo, ti dicono mettili mezzo chilo, di che ne hai messi mezzo chilo. Però non c'entra, è dannosa, no? Arrivare in fondo al ciclo è sempre difficile. Arrivare in fondo al ciclo è sempre difficile. Grazie.